Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale Allora, il video di oggi sarà un video dove vi porto nei camerini con me A questo giro andiamo da H&M dove appunto ho provato la maggior parte dei prodotti nella nuova collezione e vi faccio vedere appunto a fine video quali sono stati i miei acquisti Io spero che, come al solito, vi faccia piacere questa tipologia di video e che vi tenga compagnia E niente, vi lascio alle mie prove in camerino Eccoci qui in camerino, vi faccio vedere in carrellata veloce tutto ciò che mi andrò a provare oggi Quindi come vedete c'è del giallo E cominciamo proprio con una delle camicette Questa mi piaceva un sacco, soltanto che era veramente troppo troppo corta Però il modello era veramente grazioso Però sì, troppo corto Poi sarà che io ho un problema con le cose corte Non mi piacciono molto Quindi, non so, pure la manica era molto carina Peccato, veramente peccato Questo vestito è l'unico che non fa parte della nuova collezione Era uno tra i rimasugli, insomma, dei saldi Molto carina la linea, molto carina la fantasia Lunghezza giusta, insomma, né troppo corto né troppo lungo Molto molto grazioso Mi è piaciuto Questa camicetta mi ha, diciamo, catturato l'attenzione Perché appunto ha strisce rosa e bianche Soprattutto perché sono verticali E sono un po' difficili da trovare in giro Un po' trasparente Però veramente leggera Adatta alla primavera Quindi per quello ho voluto provarla Molto morbida Quest'altra camicetta, pure, mi è piaciuta tantissimo Per la fantasia Che è uguale, credo, mi sembra Insomma, alla prima Il taglio mi piace di più Perché appunto è più lunga Quanto meno E' veramente graziosa Forse una taglia in più era meglio Non so Non ne sono sicura Però mi piaceva molto Questo vestito, invece Dovete sapere che l'ho beccato Per caso In giro per il negozio Quindi non ho idea di che linea sia Ovviamente aveva e può Quindi ha attirato la mia attenzione Però secondo me Stava davvero troppo male Cioè Veramente Non so Troppo attillato Sul petto Carine le maniche Per carità Però non so Se era il colore Se era il materiale Non so Non mi convinceva Proprio per niente Questa magliettina Questa magliettina invece L'ho trovata fuori dal camerino Non l'ho provata Perché non mi andava Però è davvero Graziosissima Eccoci tornate Allora Come al solito Facciamo un po' di considerazioni Mi piacevano diverse cose Soprattutto Sono stata indecisa Fino all'ultimo Se prendere La camicetta Quella rosa A strisce verticali E Anche quella gialla Mi piaceva molto Come sapete Non so se Penso di avervelo accennato In qualche altro video Che sono un pochino Alla ricerca Di un qualcosa di giallo Che insomma Mi piace Non per solito Perché per sotto Cioè per la parte sotto Quindi jeans Come così Perché mi sembra un po' eccessivo Però Per la parte Insomma Di sopra Mi sembra che possa essere Una cosa carina Non so con un jeans Un pantalone nero Insomma Non so Mi ispira un pochino Però alla fine Non le ho prese Soprattutto la camicetta Quella a strisce bianca e rosa Mi ispirava molto Però ho pensato Che di quel tipo C'ho già un'altra camicetta di Zara A tinta unita Sempre così Rosina Così leggera Quindi E non la metto tantissimo Ecco Se proprio vogliamo essere Sincere Quindi alla fine Ho lasciato perdere E ho preso Soltanto un articolo Anche in questo caso Attenzione Ho preso solo un articolo E Tra tutte le cose Ho preso il vestito Che era scontato Si tratta di questo vestito Qui L'ho preso perché appunto Era Oltre al fatto che era Appunto al Al 50% Insomma Del prezzo Mi piaceva molto la linea Come stava addosso E Il taglio un pochino Così a trapezio Che Secondo me è molto Insomma Al mio tipo di fisico Gli dona Secondo me E ho pensato Che potesse essere carino Anche io non so Con una centa in vita Insomma Dovrei fare delle prove Mi piaceva un sacco La fantasia Ovviamente Qui Siamo in campo di Di fiori Quindi Che ve lo dico a fa E Niente Molto molto carino Ovviamente Li devo dare una stirata E una lavata Perché è tutto stropicciato Però Per insomma 12 euro Insomma Si poteva fare E Niente Quindi Sono stata molto soddisfatta Di questo articolo A dir la verità Quando l'ho visto Mi sono ricordata Che In uno dei giri per i saldi Che avevo fatto Appunto Boh a gennaio Più o meno L'avevo visto E l'avevo provato Ma ero indecisa Perché Il prezzo Era si scontato Ma non così tanto Forse 19 euro Invece di 25 Quindi quello Mi aveva fatto Un pochino desistere E quindi Ritrovarlo Appunto Della taglia giusta Al 50% Mi sono affiondata E l'ho preso Avevo visto Anche altre cose Che mi interessavano Come quella maglietta Tutta sbrilluccigosa C'ho delle cose Interessanti E ce ne è Però Non lo so Erano tutte cose A prezzo pieno Quindi Ho preferito Un pochino Per ora Lasciarle lì Poi Chissà Chissà E niente Ragazzi Questo era tutto Spero come al solito Che questo video Vi sia piaciuto E vi abbia tenuto compagnia E niente Noi ci vediamo al prossimo Noi ci vediamo al prossimo Noi ci vediamo al prossimo Noi ci vediamo al prossimo